Il Tribunale nominerà un tecnico per appurare le ragioni dei miasmi su Battipaglia e quanto stabilito questa mattina nell'ambito del dibattimento legato al ricorso presentato da un privato cittadino ed appoggiato da Lega Ambiente Battipaglia che metteva sotto accusa l'ex stir ed il sito di compostaggio di Eboli, chiedendo di individuare gli opportuni provvedimenti di urgenza volti a imporre tutte le misure e tutte le precauzioni necessarie. Di qui la decisione del giudice di disporre la nomina di un tecnico che dovrà verificare alla presenza di un consulente di Lega Ambiente, l'ingegnere Alfredo Vicinanza, il funzionamento degli impianti pubblici di trattamento rifiuti.